Andiamo avanti con la nostra raffica di mercato, Mario. Partiamo dalla Sede C, proprio dal team Altamura che prepara nuove operazioni in entrata. In attesa delle ufficialità è fatta per Felice D'Amico, trequartista classe 2000, che arriva a titolo definitivo dall'Avellino, accordo totale anche con Kosovar Sadiki. Parliamo di un centrale difensivo del 98, anche lui operazione a titolo definitivo, ma dalla Virtus Entella. Non è una novità di mercato, è una conferma, anche se sino a un certo punto, quella di Noah Maier, centrocampista classe 2004, prelevato dal Sud Tirol la scorsa estate dai murgiani. Noah Maier, che praticamente non ha mai visto il campo per colpa di un lungo infortunio, fiducia dalla società nei suoi confronti. Dunque sarà a disposizione Noah Maier, Didi Donato, per la nuova stagione tra i professionisti. Scendiamo in Serie D per parlare di Fidelis Andria, che prepara un nuovo colpo, una nuova operazione in entrata per quanto riguarda il parco Amder. Si tratta di Fialbi Lesci, terzino mancino greco del 2005, nella passata stagione, ha giocato in Italia con il Matese Andria, che ha ufficializzato poi Andrea Riso, lo centrocampista con oltre 200 presenze tra i professionisti. È già stato ad Andria per un segmento di stagione nel 2021-2022, è arrivato a gennaio del 2022, è stato comunque uno dei protagonisti della salvezza in Serie C dei Biancazzurri, riducendo da un biennio alla Virtus Francavilla. Ha rinnovato sino a giugno del 2026, quindi per un altro anno Michele Ferrara, difensore centrale, che dunque resta al Degli Ulivi, non resterà al Degli Ulivi, invece Simone Cecere, che ha di fatto salutato l'Andria, giocherà con il Picerno nel campionato di Serie C esperienza a livello professionistico. Dunque per lui molto attivo in queste ore, il nardo è fatta per Fabio Delvino, vi avevamo raccontato già di questa trattativa nella giornata di ieri, ora c'è l'ufficialità dell'ingaggio del difensore centrale, ex Matera. Anche Salvatore De Crescenzo, nuovo giocatore del Nardò, classe 2006, terzino napoletano. E poi Luigi Gianfreda, la spuntata del Nardò nei confronti del Matera per il 2000, difensore centrale nell'ultima stagione in forza al Bitonto. Ci trasferiamo virtualmente a Martino, l'abbiamo raccontato questa mattina a Calcio Market, il club bianca-azzurro ci sta provando con Giuseppe Lamonica Attaccante, ex Pistoiese nella seconda parte dell'ultima stagione in Serie D con la maglia della Barletta, resta viva sempre per quanto riguarda il Martino alla pista che porta a Matteo Gubelini, 24enne del Sora che con i Ciociari nell'ultima Serie D ha raggiunto la doppia cifra. Ufficializzazione ancora a Castellano di una trattativa già chiusa nei giorni scorsi, Malicco Pola, esterno offesivo 2004, torna nel giro in HD Serie D, torna in Puglia, lo fa con la formula del prestito dalla Carrarese, Malicco Pola che è stato determinante un anno fa nella vittoria del campionato del Brindisi, allora allenato da Ciro Danucci. Suleye Tiam è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla, operazione a titolo definitivo per il difensore senegalese 2004, che nella passata stagione si è diviso tra Casarano e Gallipoli, totalizzando 20 presenze in Serie D. Giuseppe Pipitone, nuovo giocatore del Brindisi, classe 2004, centrocampista, ultime tre stagioni in forza al Trapani, di fatto ha vinto lo scorso campionato, ha trionfato con i siciliani. Nel girone chiudiamo con il Matera, altra squadra molto attiva in queste ore, partiamo da Michele Spinelli, difensore con tanta esperienza, è in Serie D, nonostante la giovane età, un classe 98, Andrea Sansevero, Campobasso, ma anche Brindisi, Chieti e Mestre per lui. Altra operazione in entrata del Matera, sempre per quanto riguarda il pacchetto all'attrato, Davide Pirola, classe 2001, Lucchese e Casattese, le sue ultime esperienze in Serie D.